Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Tempo ancora buono, mentre al centro-sud arriva una perturbazione che poi mercoledì condizionerà anche il nostro territorio. Il dettaglio di martedì 28 febbraio. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle Dolomiti e sulle Prealpi più nuvoloso in pianura, specie al mattino, nel corso del pomeriggio più sole ovunque. Venti moderati da nord-est, temperature ancora stazionarie, minime tra lo 0 e 4 gradi, massime invece comprese tra 8 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere poco nuvoloso con maggiori addensamenti a est, ampio soleggiamento a seguire. Soffierà bora sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste e sul Carso. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite alternate ad annuvolamenti, ma prevarrà comunque il sole. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.